L'andamento dei contagi da Covid è in diminuzione, lo ha confermato il presidente della regione toscana Eugenio Gianni. C'è anche un abbassamento dei casi registrati nelle terapie intensive e nei ricoveri, ma non dobbiamo, dice Eugenio Gianni, abbassare la guardia. Sono contento nel vedere che per quanto riguarda le vaccinazioni la Toscana è sostanzialmente la prima, insieme al Veneto, sono pochi decimali, con più del 96% di vaccinazioni negli over 80. Questo significa che rispetto ad altre regioni, attraverso il lavoro con i medici di famiglia, noi siamo andati diffusi anche a prendere l'ottantenne che magari si trova in condizioni di disagio a casa e non si poteva muovere. Da domani saranno aperte le prenotazioni per le vaccinazioni dei 65-69 anni. Con il vaccino Pfizer saranno vaccinati i caregiver. Ormai siamo a 1.320.000 dosi somministrate in Toscana. Ci stiamo avvicinando al milione di prime dosi per la popolazione toscana. Sappiamo che dobbiamo arrivare a coprire 2.900.000. Il mio obiettivo è che questo avvenga per la fine settembre.